Buongiorno, benvenuti al forum sulle riforma della Costituzione che realizziamo per la rivista Notizie. La riforma della Costituzione è stata promossa dal Governo ed è stata già votata dai due rami del Parlamento, Camera e Senato, in doppia lettura. È previsto che a ottobre si svolga un referendum confermativo in cui tutti i cittadini saranno chiamati a esprimersi, se vogliono o meno, queste riforme ampie e impegnative della Costituzione. Ne parliamo qui con quattro consiglieri regionali e precisamente con Giorgio Bertola del Movimento 5 Stelle, con Davide Gariglio del PD, Alfredo Monaco di Scelta di Rete Civica e Claudia Porchietto di Forza Italia. Facciamo un giro di tavolo chiedendo innanzitutto al Presidente Gariglio di parlarci dell'aspetto delle competenze e delle funzioni. Nella nuova riforma, nella nuova Costituzione, non è più prevista la competenza concorrente che dava origine a dei notevoli contrasti tra Regioni e Governo. Nello stesso tempo, però, numerose competenze, numerose funzioni anche importanti come relativa all'energia, alle infrastrutture, ai trasporti, vengono, diciamo, in qualche modo attirate nuovamente allo Stato centrale. E quindi qualcuno ha obiettato che c'è indubbiamente un disegno di recentralizzazione. Ecco, cosa ne pensate su questo? La riforma Costituzionale obiettivamente pone un correttivo ad alcune malformazioni, malfunzionamenti che questa Costituzione ha mostrato negli ultimi anni. La potestà legislativa delle Regioni, cioè la possibilità di fare leggi delle Regioni, nel 2001, con la riforma varata dal centro-sinistra, aumentò moltissimo rispetto a quanto stabilito nel 1948. Il centro-sinistra aumentò considerevolmente i poteri delle Regioni. Questo, però, diede vita a un grande contenzioso con lo Stato. La Corte Costituzionale, in questi anni, è stata intasata da ricorsi tra Stato e Regioni per capire di chi fosse la competenza a fare leggi su una determinata materia. Perché per molti settori vi era una competenza legislativa concorrente, cioè lo Stato poteva dettare delle leggi con norme generali, norme cosiddette cornici, mentre le Regioni dovevano dettare norme di attuazione. Ora, per evitare questa struttura, la nuova riforma Costituzionale pone un limite molto chiaro. stabilisce che alcune materie sono di competenza dello Stato centrale e tutto ciò che non è competenza legislativa esclusiva dello Stato è competenza delle Regioni. Questa chiarezza dovrebbe rendere più chiaro per tutti sapere esattamente chi fa che cosa, che è un punto cruciale per questo Stato, dove non si sa mai chi ha la competenza definitiva su un punto piuttosto che su un altro. È vero, condivido l'osservazione, alcuni punti sono stati portati sotto la competenza legislativa esclusiva dello Stato, cioè solo più lo Stato potrà fare leggi sulla produzione e distribuzione, ad esempio, di energia elettrica, sulla materia dell'ordinamento dei porti, degli aeroporti. Questo per correggere un malfunzionamento che impediva oggi allo Stato centrale di avere la regia chiara su dei settori cruciali che vanno disciplinati in una logica europea se non internazionale. Quindi da questo punto di vista è vero, alcune materie sono riportate alla competenza legislativa dello Stato e solo allo Stato. È un bene piuttosto che un male. Io credo che non si debba essere dogmatici. Un ordinamento che funziona bene, quello tedesco, un ordinamento indubbiamente federale, è un sistema in cui le Regioni hanno molti minori poteri legislativi di quelli che oggi abbiamo in Italia, che avremo con la riforma in Italia, ma è un sistema che funziona perché le Regioni hanno potere esecutivo, cioè poter diministrare un gran campo di materie. E io credo che noi dobbiamo uscire dal nostro provincialismo che ci porta a guardare sempre e solo un po' gli diattivi di casa nostra e andare a copiare, come si è cercato di fare, i modelli che funzionano bene e che danno anche ai loro sistemi la possibilità di funzionare bene come quello che succede oggi in Germania. Bene, grazie. Sentiamo ora il Presidente Bertola su questo stesso tema. È piuttosto chiaro che ci troviamo di fronte ad una svolta centralista rispetto a quanto era stato stabilito con la riforma del titolo quinto nel 2001. Se per certe materie pare giusto anche riportare le competenze allo Stato, come ad esempio in materia di energia, su altre probabilmente conveniva comunque continuare a ragionare su forme di delega alle Regioni. Quello che va probabilmente ripensato è il concetto che vogliamo avere nel nostro Paese di federalismo. Quindi faccio riferimento anche un po' alle norme degli ultimi anni in materia di federalismo fiscale che hanno creato un po' un federalismo per abbandono. Quindi non sono d'accordo con questa svolta centralista che riduce un po' le Regioni meramente a denti amministrativi, però forse è il caso di ripensare alle Deleghe delle Regioni così come sono state viste nella riforma del titolo quinto. Bene, grazie anche al Presidente Bertola. Ora passiamo al Presidente Monaco che anche lui si esprimerà su questo tema. Sull'argomento mi sembra evidente che nel 2001 è stata fatta una correzione, un macchigliaggio della Costituzione che si rendeva necessario. Credo che sia necessario oggi, credo che sia posto bene la necessità di rimettere mano a quel documento perché effettivamente cominciava a essere confuso. Se è giusto o meno la centralizzazione lo dirà la storia, però è evidente che su alcuni temi di importanza strategica per il Paese è forse bene che ci sia un'unica regia. Il rischio, ed è quello che poi si è visto al di là dei contenziosi che sono stati registrati in questi anni, il rischio è di avere un'Italia a macchia di leopardo dove ognuno rischia di fare delle cose completamente diverse dal vicino e quindi abbiamo su alcune materie argomenti che sono diformi. Credo che sia un tema importante quello di andare a vedere. Forse un macchigliaggio così radicale e comunque voluto da parte di governo non so se è un bene in assoluto. Credo che la carta costituzionale vada modificata avendo conto di tutte le componenti. Ci devono essere tutti dentro e forse soggetti terzi non aventi direttamente parte in causa nel lagone politico o nella gestione in termini di governo o meno. È evidente che se forse avessimo lasciato fare a tutti questa operazione non si metteva mai mano a un documento e il governo ha avuto quantomeno il coraggio di metterci a mano. Se è un bene o un male, questo lo dirà la storia, però che alcuni temi si ponesse chiarezza su cosa deve fare e chi lo deve fare è credo che questo sia un argomento assolutamente necessario per il Paese. Bene, concludiamo questo primo giro di tavolo con la consigliera Claudia Porchietto. Grazie. Mi permetto di sottolineare subito con una battuta alcune riflessioni che credo vadano fatte. Il problema di consegnare alla storia i risultati di questa riforma rischiano di riportare il Paese nel caos e quindi io preferirei intervenire prima che me lo dica la storia. Credo che la politica debba fare questo in questi anni. E devo dire che dopo soli 15 anni dal 2001 in cui si mise mano al famoso titolo quinto, immaginare di stravolgere completamente anziché apporre degli aggiustamenti che sicuramente erano necessari. Ricordo che nel 2001 quella riforma passò con una maggioranza risicata che poi venne confermata da un referendum ma comunque già allora si tracciò un percorso che era un percorso più conflittuale che altro. Quindi io credo che oggi sarebbe stato opportuno apporre dei correttivi ma non stravolgere quello che era un concetto importante, un concetto che oggi la Germania che prima si è portata come esempio segue, quello di un forte, non un forte ridimensionamento delle autonomie locali ma una forte responsabilizzazione delle autonomie locali. Nel 1970 quando vennero istituite le regioni si decise di non renderle responsabili. Qualcuno chiamava la irresponsabilità delle regioni quello che era stato il percorso che era stato avviato ormai quasi 50 anni fa. Oggi anziché responsabilizzare le regioni abbiamo tolto a loro ancora una serie di competenze e legiferazione ma attenzione non abbiamo centralizzato, abbiamo ricreato caos perché se noi andiamo a leggere attentamente questa riforma troveremo che su molte delle competenze che ad una prima lettura della riforma si ritengono accentrate si accentra soltanto la parte più general generica del processo legislativo e si rischia di continuare questo contenzioso che negli anni soprattutto per quanto riguarda il tema dell'economia e della vita sociale ha portato a questo inasprimento del conflitto tra regioni e governo centrale. Io credo che una sana riforma dovrebbe vedere non solo tutti i coinvolti ma soprattutto una condivisione di un percorso in cui si valorizzano gli enti locali e non si crea la conflittualità che si è creata in questi anni, la guerra tra istituzioni che ha portato ad inchiodare il Paese. Bene, grazie. Ora il secondo giro di tavolo riguarda invece il tema del Senato che tocca direttamente le regioni in quanto scomparendo il bicameralismo perfetto che è una vera e propria rivoluzione all'interno del nostro ordinamento costituzionale si crea una Camera delle Autonomie, il nuovo Senato che verrà eletto con la diretta partecipazione delle regioni. Se sulla scomparsa del bicameralismo perfetto si registrano ampi consensi gli aspetti più critici sono stati invece rilevati sulla composizione del nuovo Senato. Su questo tema chiediamo il secondo giro di tavolo cominciando dal Presidente Bertola. Intanto su questo va detto ma anche come linea generale che abbiamo un Parlamento eletto con una legge incostituzionale che mette mano alla Costituzione. Una riforma della Costituzione passata con voti che rispecchino anche una maggioranza diversa rispetto a quella uscita dalle elezioni del 2013. Se da un lato forse era necessario anche ragionare sulla riforma, sulla revisione del bicameralismo perfetto dall'altro lato sarebbe stato forse più opportuno mantenere l'incarico, il mandato diretto popolare su entrambe i rami del Parlamento quindi non far diventare in qualche modo il Senato un ente di secondo livello. Se si voleva ragionare su una riduzione anche dei costi della politica l'obiettivo si poteva raggiungere ad esempio con la riduzione o il dimezzamento dei parlamentari e magari la riduzione anche delle indennità. quel Senato così come uscirebbe dalla riforma costituzionale non è una vera Camera di compensazione poiché le due Camere dovrebbero potersi controllare tra di loro o magari andare a correggere l'una gli errori commessi dall'altra. Quindi noi non siamo d'accordo con questo tipo nuovo di impostazione del Senato e sinceramente mi chiedo anche come un Consigliere regionale o un Sindaco possa svolgere bene due mandati importanti come quello di Sindaco o Consigliere regionale e quello di Senatore. Grazie al Presidente Bertola ora sentiamo su questo stesso argomento il Presidente Monaco. La necessità di rivedere il bicameralismo perfetto è un'altra grande questione che si posta nel nostro Paese e si pone da anni. Oggettivamente bisogna dire che effettivamente dei parlamenti denominati rischiamo di averne ancora e per quanto riguarda la mia esperienza personalissima dico io ho delle difficoltà già a fare solo il Consiglio regionale nel senso che mi devo studiare tanto i temi sono complessi devi stare insieme alla gente e da potenziali senatori alcuni di noi potrebbe esserlo chiunque seduto a questo tavolo e beh oggettivamente avrete le difficoltà a stare su due pezzi così importanti contemporaneamente. Quello che in qualche maniera è una buona intenzione credo che in qualche modo non sia stata poi rispettata per esigenze che non comprendo e non conosco e quindi la scomparsa di un sistema vabbè di una Camera può anche andare bene credo che avesse bisogno però o di rappresentanti suoi o si poteva volendo mettere in mani anche a quelle che sono i regolamenti parlamentari perché è vero che è stato detto poc'anzi che ci sono dei temi che poi vanno a inaridirsi e quindi questo controllo reciproco ci sarebbe bisogno ma è stato anche ampiamente documentato che le motivazioni che spingono al controllo reciproco purtroppo non sempre sono quelle che si aspetta la gente cioè di vicinanza ai loro temi e quindi di modificare le leggi per motivazioni che riguardano le proprie sensibilità e le attese dei cittadini a volte riguardano argomenti completamente diversi purtroppo tutti i modelli hanno dei difetti diciamo che quello del bicameralismo ha portato all'estremizzazione di certi comportamenti che non sono rispondenti alle attese dei cittadini e quindi si è reso necessario di modificare questo ramo del Parlamento credo che semplicemente con la modifica dei regolamenti si poteva anche soltanto cancellare il Senato della Repubblica lo si cancellava e comunque a mio parere le persone che dovrebbero occuparsi di un'eventuale camera di compensazione laddove sia necessaria poteva trovare un sistema diverso di reclutamento piuttosto che prendere da istituzioni che credo abbiano già forti impegni è evidente che se le regioni sono svuotate abbastanza di contenuti o comunque ridimensionate nell'attenzione che devono rivolgere ai propri territori ebbè alcuni di questi forse possono anche devolvere del tempo al Senato della Repubblica per i sindaci delle città metropolitane la vedo un po' più difficile grazie allora la parola a Claudia Porchietto io credo che il bicameralismo non sia assolutamente scomparso il problema è che siamo passati dal perfetto all'imperfettissimo se posso usare questo termine in italiano assolutamente non corretto stiamo parlando comunque di due camere che nel momento in cui la seconda camera vale a dire il Senato rivisto attraverso questa riforma funzionerà entrerà fortemente in contrapposizione con la camera cosa diversa se noi avessimo scelto se il governo avesse scelto di proporre invece effettivamente una camera di compensazione in cui a questo punto il nuovo Senato avrebbe dovuto occuparsi di quelle che erano leggi di competenza regionale stante che le rappresentanze saranno quelle regionali tra l'altro all'interno del Senato non saranno presenti i presidenti delle regioni o meglio non sono previsti poi potrebbero magari essere nominati attraverso quelle che sono le scelte che faranno le regioni ma non sono non sono previsti quindi non si parla di un'abolizione della conferenza Stato-Regioni che avrebbe potuto essere quello strumento abolito che avrebbe portato all'interno del Senato davvero quella che per noi è importante e vitale vale a dire l'attività politica necessaria per attuare una vera riforma con un lavoro fatto dalle regioni serio e compiuto quindi una conflittualità che non viene allontanata ma soprattutto se noi andiamo a vedere una conflittualità tra il nuovo Senato e la Camera che nel caso in cui qualcuno avrà voglia di leggersi un po' quelle che sono le nuove definizioni e troverà un rimando ad articoli commi contro commi che neanche la legge finanziaria a cui siamo abituati la legge di stabilità riesce a riportare all'interno delle proprie pagine questo dovrebbe essere invece i nuovi percorsi che il nuovo Senato dovrebbe fare quindi una grande difficoltà già a leggere il testo legislativo ma una grande difficoltà a far lavorare insieme due Camere quindi un bicameralismo non solo imperfetto ma credo anche pericoloso per quelle che invece dovrebbero essere riforme che portano alla non conflittualità tra le istituzioni ma soprattutto ad un percorso legislativo agile e snello per la nostra Italia Grazie e chiudiamo questo secondo giro di tavolo con il parere del Presidente Davide Gariglio Io ho 49 anni da circa 40 anni cioè da quando sento parlare i miei genitori di politica la gente di politica sento dire che i parlamentari sono troppi ecco con questa riforma 315 senatori della Repubblica cessano di esistere quindi riduciamo di un terzo da 1000 a 630 il numero dei parlamentari con un grosso risparmio di denaro pubblico si fa una cosa di cui si parlava in questo paese da 40 anni il primo governo e la prima maggioranza nella storia della Repubblica che ha il coraggio di dire a 315 senatori andate a casa seconda cosa importante da almeno 30 anni diciamo tutte le forze politiche dicono che le due camere sono ridondanti cioè fanno lo stesso lavoro il cosiddetto bicameralismo perfetto cioè due camere formate con gli stessi criteri divise negli stessi partiti che fanno le stesse cose questa anomalia tutta italiana finisce nel senso che rimarranno due camere ma una quella elettiva che è una camera politica che fa quello che oggi fa la camera dei deputati e il senato della Repubblica l'altra che sarà composta da consiglieri regionali e da 20 sindaci quindi gente che verrà pagata come è pagata oggi dalle rispettive istituzioni il proprio comune e la propria regione che farà un altro mestiere cioè vigilerà e comparteciperà alle leggi che toccano gli enti locali di riferimento quindi due camere che andranno a fare un sistema avranno competenze diverse andranno a fare lavori diversi con rappresentanze diverse una camera la camera dei deputati sarà divisa per partiti l'altra sarà divisa secondo radicamenti territoriali è un sistema che funziona sì ce lo insegna anche qui la Repubblica Federale Tedesca la Germania dove c'è una camera politica e una camera il senato delle regioni detto Bundesrat che si divide per territori e qui credo che sia la grandezza di questo modello andare a recepire quello che c'è che funziona negli altri paesi noi dovremmo far sì che quelli che verranno eletti dal Piemonte quelli che i consiglieri regionali li manderanno a fare i rappresentanti della regione siano lì a rappresentare gli interessi della regione ecco perché io ho già dichiarato che noi manderemo lì il governo regionale a garantire un presidio degli interessi della nostra regione e non andare lì come se andava in passato a difendere le proprie bandiere di partito di posizionamento politico una camera delle regioni che serve per difendere i territori e compartecipare alle scelte nazionali che ricadono sui cittadini piemontesi grazie a tutti un ulteriore aspetto che tocca direttamente l'attività delle regioni è il cosiddetto nodo delle province perché con questa riforma se passa la riforma vengono espunte le province non hanno più una copertura diciamo così costituzionale non sono più citate in costituzione questo comporterà una riorganizzazione del sistema complessiva del sistema degli enti locali alcuni commentatori hanno già cominciato a parlare di accorpamenti delle stesse regioni ecco qual è la posizione su questo aspetto comincerei dal presidente Monaco anche il tema delle province è un tema che è stato cavallo di battaglia di tantissime forze politiche per tantissimi anni percependo o credendo di recepire quelle che fossero le sensibilità dei cittadini che vedevano una filiera troppo lunga di produzione sia politica che amministrativa sui propri territori il governo ci ha messo mano anche qui è stato il governo sul tema mediante una riforma che diventa costituzionale a questo punto cancellando nella composizione dello Stato la parola provincia è evidente che si apre uno scenario di vuoto in qualche modo quindi quello che era la necessità di ridurre come dire il personale politico presente su un territorio che non sempre si è dimostrato all'altezza di quelle che erano le aspettative dei territori stessi perché andavano a fare delle attività molto spesso o troppo spesso oscure al cittadino e non comprensibili in modo diretto ecco allora lì si è messo mano quali sono le competenze che ne deriveranno e sarà difficile mettere su un modello organizzativo ben fatto perché io credo che le regioni hanno una competenza legislativa se dovessero assumere anche delle competenze amministrative e credo che sia un mix che non so fino a quando possa funzionare bene diventa poi difficile avere la presenza sui territori che invece in qualche maniera per alcuni settori le province assicuravano la città metropolitana credo che possa essere una soluzione ma non potrà rappresentare la panacea era già immaginata se non ricordo male da un vecchissimo governo il cui ministro di allora propose questa legge era il senatore Gava che fece già la legge dove immaginava le aree metropolitane le città metropolitane oggi si ripropongono e per la prima volta comunque si tenta questa sperimentazione diciamo quello che preoccupa un po' i cittadini e soprattutto delle aree non centrali rispetto alla città capoluogo è di essere un po' dimenticate un po' le cenerentole di turno rispetto a risorse che comunque sono ormai contratte ecco la parola ora alla consigliera Porchietto anche sul tema delle province credo che sia stata fatta tante parole è usata molta demagogia e mi permetto di sottolineare e di ricordare che forse non sarebbe opportuno prendere sempre ad esempio il modello tedesco non solo perché la Germania è molto diversa dall'Italia ma anche perché molto spesso la Germania nasconde quelli che sono i propri flop anche dal punto di vista istituzionale attraverso un uso improprio del governo europeo vediamo soltanto cosa è accaduto con le banche con la Deutsche Bank che ha perso miliardi di euro anche per errori fatti a livello politico e legislativo e l'ha coperto attraverso i fondi che l'Europa ha messo a disposizione alle banche tedesche dico questo perché non credo che il modello migliore per l'Italia debba basarsi solo sul fatto che si tagliano i costi della politica o comunque che si riducono le istituzioni il tema è la qualità della politica e la qualità della pubblica amministrazione oggi ci ritroviamo in un limbo in cui abolite le province abbiamo le città metropolitane e le aree metropolitane che non hanno ancora capito cosa debbano fare non hanno risorse in questo momento sono spinte con una spinta dall'alto verso il basso dalle regioni e dal basso verso l'alto dai comuni con una grossa frizione una grossa frattura tra quello che è il governo della città e il governo delle aree più periferiche il risultato lo vediamo sulla provincia di Torino in particolare è che rischiamo di avere una non gestione di un'area molto grande che comprende in questo momento 315 comuni quindi io credo che anche il tema delle province vada affrontato non con demagogia ma vada affrontato in funzione di quella che è la qualità di una politica e di una pubblica amministrazione ripeto che devono migliorare in Italia il problema non sono soltanto i numeri degli eletti o i numeri dei governatori ma la qualità di chi governa e la qualità degli eletti che non sempre viene espressa dai partiti e che anche con questa riforma ancora di più verrà espressa dal partito e non dalla politica non dalla polis cioè dalla scelta anche dei cittadini delle persone più indicate allora su questo argomento sentiamo adesso il parere del presidente Gariglio credo che nell'opinione pubblica nel dibattito politico sia noto a tutti sia patrimonio comune che l'Italia ha ancora oggi troppi livelli di elettività diretta cioè troppi livelli in cui i cittadini scelgono direttamente i propri amministratori con competenze spesso confliggenti pensate Stato Regioni Provincia Comuni Provincia Comuni Comunità Montana Unione Montana Unione di Comuni e poi sotto le circoscrizioni le autorità d'ambito insomma una ridondanza amministrativa che andava semplificata con questa riforma le province non sono più un ente garantito dalla Costituzione le province oggi continuano ad esistere ma continuano ad esistere non come enti i cui organi i cui amministratori sono eletti dei cittadini non ci sono più questa riforma mandato anche qui in pensionamento anticipato 4.000 amministratori provinciali pagati dai cittadini oggi le province sono enti in cui gli amministratori sono eletti dai sindaci cioè dalle persone che esprimono direttamente i loro indirizzi della loro popolazione i sindaci e gli amministratori piemontesi scelgono gli amministratori delle province che fanno gli amministratori delle province anche qui in quanto amministratori di un comune pagati dal loro comune io credo che questa riforma sia importante perché si era esagerato con il livello di proliferazione politica di proliferazione scusa politica sono nate province ovunque in Italia un po' meno forse in Piemonte ma abbiamo avuto una valanga di province in più che crescevano per il moltiplicarsi di posti ecco oggi con questa riforma costituzionale le regioni potranno al loro interno decidere come organizzare un livello di governo di area vasta cioè come amministrare il territorio al di sopra del livello comunale e l'indicazione che la maggioranza di governo ha dato qui in Piemonte è quello di dividere il Piemonte in quattro aree in quattro nuove macro aree a cui affidare dei compiti di governo del territorio ma anche qui macro aree gestite da amministratori eletti dagli amministratori comunali non più direttamente dai cittadini quindi credo che questa riforma costituzionale abbia il pregio di risolvere un problema sollevato da tanto tempo dei cittadini di ridurre il costo della macchina politica ma dall'altro lato di consentire ogni regione di darsi la struttura più confacente ai propri bisogni e credo che il passaggio successivo che non sia ancora fatto ma che andrà fatto è anche quello di ridurre il numero delle regioni l'Italia ha 20 regioni e due province di autonomia speciale quella di Tanto e quella di Bolzano è un unicum le nostre regioni sono troppo piccole occorre razionalizzare e anche qui il prossimo passaggio credo dovrebbe essere quello di andare nella logica delle macro regioni di cui la fondazione Agnelli ci ha parlato da 20 anni a questa parte ma che non si sono ancora fatte concludiamo questo ultimo giro di tavolo con il presidente Bertola c'è da dire che le province come livello elettivo quindi come rappresentanti scelti dalla volontà popolare erano già state eliminate dalla riforma del Rio che le aveva trasformate in un ente di secondo livello tra l'altro era stata anche data attuazione alla città metropolitana che era prevista già da una legge del 1990 peraltro questo ha creato una grande anomalia perché ad esempio la città metropolitana di Torino è una realtà che vede Torino la sua cintura la sua conurbazione che in qualche modo ha problematiche che sono simili a quelle di Torino ma vede anche la montagna arriva fino alla montagna quindi la città metropolitana in realtà ha marginalizzato dei territori molto importanti come quelli della montagna della ex provincia di Torino una riforma la del Rio è frettolosa e pasticciata questa nuova previsione costituzionale se è possibile introduce altra confusione perché è vero non sono più organi enti costituzionali le province ma comunque si parla di enti di area vasta quindi invece probabilmente di cambiare il nome alle cose come si fa spesso il nostro paese bisognerebbe lavorare per semplificare poiché già prima le province avevano la possibilità di accorparsi tra di loro quindi avevano già la possibilità di creare un numero inferiore di enti di area vasta peccato che poi diciamo la gestione politica degli ultimi decenni del centro-destra e centro-sinistra abbia visto nelle province in qualche modo un poltronificio quindi abbiamo assistito al fenomeno della moltiplicazione delle province province che in alcuni casi sono state create con un numero di abitanti inferiori a quelli di un quartiere di una grande città certo questa era una struttura però questa riforma costituzionale a nostro avviso introduce ancora maggiore confusione ecco allora concludiamo questo forum chiedendo ai nostri interlocutori come si pronunceranno loro in quanto cittadini e poi i partiti che rappresentano al referendum che sarà previsto nel prossimo mese di ottobre un referendum previsto dalla Costituzione che darà modo a tutti gli italiani di pronunciarsi su questa importante riforma allora perché sì o perché no è sinteticamente il motivo che vi induce cominciamo da Claudia Porchietto io dico a chiare lettere che mi pronuncerò per il no a questa riforma pur condividendo la necessità di una riforma mi dispiace che in questo momento la maggioranza che governa l'Italia non abbia capito l'eccezionalità del momento nel 2013 ricordo che le elezioni politiche hanno portato ad una non governabilità del paese non c'erano le maggioranze atte a farlo quindi nacque comunque per il bene del paese una coalizione legata comunque come si disse ad una riforma della Costituzione che si basasse non su una maggioranza ma su ampie maggioranze che condividessero i principi è stato completamente stravolto quel momento siamo arrivati nel 2016 con una lotta scorretta tra chi governa oggi il paese che la messa anche sul personale o con me o contro di me e il resto del mondo io credo che non ci sia persona alcuna anche il nostro presidente del consiglio attuale più importante della Costituzione e più importante di una riforma costituzionale quindi credo che in primis sia sbagliato metterla sul piano personale e politico ma soprattutto è sbagliato immaginare che un referendum come questo possa essere anche una battaglia politica e partitica per vedere che cosa succederà e per indurre il cittadino a votare a favore o contro non di riforme costituzionali ma di una maggioranza che oggi governa il paese una maggioranza tra l'altro variabile una maggioranza che anche nelle ultime votazioni che hanno condotto a questa riforma costituzionale hanno visto completamente stravolto quello che era la maggioranza di partenza e credo che questo debba fare riflettere gli italiani il secondo punto e capisco che sia difficile per i piemontesi scendere in modo approfondito perché facciamo comunque difficoltà anche noi a capire quali sono le riforme in tutto il loro iter procedurale e soprattutto in tutti i rimandi che ci sono alle norme costituzionali ma credo che i principi che precedentemente sono stati anche enunciati dal collega Gariglio non possano che essere condivisibili il problema è che il testo della riforma non riporta questi principi nello stesso modo in cui sono stati enunciati e quindi la preoccupazione che in realtà queste riforme inchiodino il paese ancora una volta e che prima che si possa nuovamente mettere mano il paese sarà nuovamente sul baratro di una non gestibilità dal punto di vista legislativo mi permetto anche di sottolineare credo che questo sia importante che un referendum indetto come o sì o no alle riforme non permette di salvaguardare quella parte di riforme che invece sono state fatte bene correttamente perché non sarebbe corretto da parte mia dire che i vari punti cardine della riforma costituzionale sono tutti negativamente visti dalla parte politica che rappresento ma chiaro che è difficile immaginare che un cittadino italiano possa arrivare con consapevolezza dire o sì o no se non può permettersi di suddividere il quesito referendario in vari quesiti che spiegano quali saranno le riforme quali saranno i processi che verranno messi a punto ultimo e chiudo il tema che una riforma costituzionale non si può immaginare senza affiancare ad essa la riforma della legge elettorale e sono due riforme che in realtà hanno viaggiato per binari paralleli che non si sono mai incontrati ed entrambe porterebbero qualora venisse approvato venisse convalidato con il referendum di ottobre anche la riforma costituzionale ad un governo di pochi ad un non diciamo bipolarismo ma un assoluto un assoluta concentrazione del potere in mano di pochi anche con percentuali basse dal punto di vista dei risultati elettorali e che porterebbero chiaramente l'Italia non verso una democrazia allargata ma verso un accentramento anche del potere io credo che in questo momento questo non faccia bene all'Italia ora sentiamo il consigliere Alfredo Monaco su questo aspetto allora sul tema di cosa votare al prossimo referendum io avevo ed ho nutro fortissimi dubbi molti di questi mi sono stati fugati pochi giorni fa quando durante la celebrazione il 25 aprile incontrando molte associazioni di partigiani ex combattenti e persone mi hanno convinto che probabilmente il voto migliore è il no il no perché tra il pacchetto di riforme che viene proposto e secondo me c'è necessità di fare delle riforme e modificare quello che è il documento originario ma nel pacchetto di riforme in qualche modo si consegna il paese alla benevolenza alla possibilità che a governarci ci siano sempre delle persone di buon senso capaci dei padri di famiglia la storia ci insegna che non sempre è così soprattutto in momenti di difficoltà come questi laddove ci troviamo nella in una possibile difficoltà economica congiunturale dove si scatena molto molto le rabbie dei cittadini la pancia cosiddetta ecco affidare alla pancia eventuali derive rischia che per un voto in più ci possiamo trovare il paese consegnato a delle forze che oggi potrebbero non rispettare quei valori che invece alcune associazioni dell'Ampi mi hanno rappresentato proprio nel 25 aprile con grande preoccupazione allora io credo che laddove si debba introdurre tante gabbole tecniche per garantire la governabilità di un paese ebbè vuol dire che in qualche maniera stiamo mettendo in discussione quello che è un tema e che è una difficoltà è un limite della democrazia quella di avere la pazienza di ascoltare tutti anche quelli che la pensano diametralmente opposto a noi forse anche loro possono avere un pezzo di regione anche se noi abbiamo il dovere di governare di fare le cose ma dobbiamo avere la capacità di avere l'orecchio attento ad ascoltare le ragioni degli altri con una riforma che concentra e toglie in qualche misura anche alcuni contrappesi ebbe ad oggi alcuni di quei dubbi sono fugati e la bilancia tende decisamente verso il no ora la parola al consigliere Giorgio Bertola un no chiaro e netto a questa riforma costituzionale una riforma portata avanti ed approvata da un Parlamento eletto con una legge elettorale incostituzionale votata da una maggioranza che è diversa da quella uscita dalle passate elezioni una riforma costituzionale che combinata ad una legge elettorale profondamente antidemocratica e sbagliata rischia di consegnare il nostro paese al governo di pochi nominati che ha vissuto i testimoni di coloro che hanno vissuto la stagione nella quale non c'era la democrazia nel nostro paese chiedono di votare no e questo dovrebbe dire la lunga e quindi un no chiaro e netto a questa riforma concludiamo questo forum con il parere del presidente Davide Gariglio temo di essere in disaccordo con i miei colleghi tutti abbiamo in mente l'immagine del Parlamento della Repubblica in seduta comune nel 2013 appena eletto quando non riuscì a eleggere nessun presidente della Repubblica e quindi chiamò di nuovo in servizio permanente effettivo Giorgio Napolitano dicendogli vieni a fare di nuovo al presidente perché siamo incapaci di trovare un'altra soluzione vi ricordate l'intervento di Napolitano Napolitano che condannava una classe politica che era stata incapace negli anni di fare le riforme e disse questo Parlamento ha l'obbligo morale di fare le riforme ecco questo Parlamento ha fatto in modo forse anche prefettibile per carità ma ha fatto finalmente le riforme ha cambiato la legge elettorale ha cambiato la Costituzione ed oggi la stessa maggioranza che propone di cambiare la Costituzione ha fatto istanza finché i cittadini possano essere chiamati a dire se sono favorevoli oppure no a queste riforme allora io credo che se ciascuno di noi è contento di come ha funzionato la politica in questi ultimi 20 anni di come ha funzionato l'amministrazione pubblica in questi ultimi 20 anni debba votare no perché vuol dire non voglio la riforma costituzionale le cose vanno bene così se qualcuno è contento che in questo Paese si discuta per anni e anni e anni che ormai sono 20 sulle riforme costituzionali da fare sulle regole che vanno cambiate senza mai cambiarle allora deve votare no non dobbiamo riformare la costituzione le cose vanno bene così ma chi è convinto che questo Paese debba cambiare profondamente al suo interno e debba cambiare oggi in fretta per essere all'altezza delle altre democrazie decidenti del mondo per dire chiaramente chi fa che cosa semplificare ridurre i costi della politica ridurre la macchina amministrativa rendere più certe le responsabilità allora deve votare sì e chi vuole che il giorno dopo le elezioni si sappia chi ha vinto e chi ha perso le elezioni e quindi chi deve governare il Paese deve votare sì ecco io credo che questa sia una necessità del Paese per questo mi impegnerò con tutte le mie forze per votare sì e per convincere a votare sì questo Paese non ha più tempo ne abbiamo perso troppo se vogliamo creare un futuro ai nostri figli e ai nostri nipoti è oggi il momento che la politica si assume le proprie responsabilità con questo intervento si conclude il forum sulle riforme costituzionali ringraziamo i nostri interlocutori sono certo che hanno dato degli spunti utili che serviranno anche ai cittadini piemontesi per prendere una decisione consapevole del momento in cui si recheranno le urne a ottobre il video viene pubblicato sulla nostra social tv crpiemonte.tv dove è raggiungibile fruibile liberamente una sintesi verrà trascritta sulla rivista il nostro magazine notizie della regione Piemonte grazie ancora buongiorno grazie a tutti